Ciao a tutti, allora scusate al solito lo stato ma ho la pelle in condizioni pietose da qualche giorno, lo sapete tra l'altro oggi è una giornata uggiosissima, ha piovuto tutto il giorno e quindi allora io ieri ho fatto un get ready with me dove vi ho fatto vedere le unghie però non l'ho caricato, non so se lo caricherò, non mi è piaciuto granché anche perché si sentivano tanto i cani abbagliare in sottofondo non ho mia voglia di farvi sentire l'abbaglio dei miei cani, probabilmente abbaglieranno anche adesso ogni tanto allora come dicevo io ieri ho fatto una sorta di refill tra virgolette, ho semplicemente cambiato il colore e accorciato le unghie ho fatto rosa fluo di passione unghie, però purtroppo rosa fluo mi ha dato qualche problema nel senso che il gel colore è diventato molto solido, è colloso quindi difficilissimo da stendere ho fatto una fatica immane, infatti in alcuni punti a me ovviamente guardandole molto da vicino si vede che il colore non è uniforme perché appunto per questi errori, errori scusate per questa difficoltà di stesura la struttura è fatta con il builder pink di Mesauda Milano con cui mi trovo abbastanza bene, è facile da lavorare però essendo quasi trasparente per i colori fluo, pastello, serve comunque un builder color quindi una base, un gel molto corposo e soprattutto compatto come colore perché il gel trasparente tende a fare risaltare le discromie delle unghie poche male, mi piacciono, mi piacciono moltissimo, io amo i colori fluo lettererò così tra un paio di settimane cambierò colore spero che questo colore con l'arrivare della bella stagione si sciolga un pochino nel qual caso dovrò ricomprarlo poco male l'ho usato per tutta l'estate quindi è un po' anche meno della metà al barattolino quindi se lo ricompro non succede assolutamente nulla allora, io ieri sono andata da Oreo Center perché come vi ho detto nel Get Ready che non avete visto quindi non lo sapete io ogni venerdì sera io e mio marito andiamo a cena dentro Oreo Center Oreo Center per chi è della zona di Bergamo o comunque conosce è il centro commerciale di fronte all'aeroporto Caravaggio di Bergamo quindi Oreo al serio, vecchio Oreo al serio, si chiama Caravaggio in realtà all'aeroporto e Oreo Center è proprio il centro commerciale che si trova di fronte attualmente è uno dei centri commerciali più grandi d'Italia diventerà a breve perché all'inaugurazione ai primi di aprile viene inaugurata una nuova ala di Oreo Center diventerà il centro commerciale più grande d'Europa è enorme, immenso, già adesso così è grande, c'è un tre piani di parcheggio per dire ragazzi, è veramente gigantesco, non so se è conoscete Oreo Center comunque noi andiamo a cena lì il venerdì sera perché dentro proprio Iper il supermercato, quindi Iper hanno fatto una sorta di bancone all'americana dove ci sono le griglie e tu ordini quello che vuoi quindi carne, pesce, verdure e loro te le preparano sul momento è molto bello e molto conveniente soprattutto mangi cose comunque sane Yuri, mio marito si chiama Yuri ha mangiato ieri della carne, ha arrosto e io ho mangiato un hamburger tutto qua dovevo prendere, dovevo fare anche un po' di spesa ho comprato quattro robe, giusto per dire che ho preso qualcosa e ho comprato anche una cassa da utilizzare con il cellulare in macchina perché io sento la musica in macchina con queste casse bluetooth dal cellulare collego il cellulare alla cassa bluetooth perché ho Shazam no Shazam, scusate ho Spotify con tutte le mie canzoni che ho dentro Spotify con Spotify perché altrimenti mi sintasa l'iPhone quindi io pago 10 euro al mese di Spotify e ho tutto sono oltre 400 canzoni sarebbe impossibile tenerle tutte sulla memoria del cellulare impossibile a meno che non hai l'Android che hai la memoria esterna ma io con Android non mi trovo più bene una volta che passi a Apple non riesci più a tornare indietro e allora ho comprato questa qua questa si chiama Rockbox ed è bluetooth portabile scusate ragazzi scusate mio marito è uscito quando mio marito non è in casa loro ehi il loro modo di proteggermi è questo Divo scusate allora si chiama dicevo Rockbox ed è praticamente 8 ore di musica ininterrotta a parte che la adoro ed è semplicemente delizioso è tutta rosa sopra c'è la cassa il laterale è in gomma e c'è un piccolo granchio non so se lo vedete non me l'ho messo al contrario c'è un piccolo granchio quando si accende questo guardate faccio vedere se riesco ecco non si accende fa niente ecco fa il suono e lampeggia ovviamente quando il bluetooth del cellulare è acceso lui rileva la presenza del bluetooth e funziona anche per è lo spento funziona anche per le chiamate in entrata quindi quando l'aggeggino è acceso è collegato con il cellulare quando il cellulare squilla la musica si interrompe schiacciate il pulsante e potete rispondere alla telefonata è molto utile quando si è in macchina perché non si risponde mai al telefono mentre si guida mai e dicevo ho preso quindi questa cassa questa cassa è venuta è costata 14 euro normalmente ne costava 35 quindi un grosso 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 sconto e questa ah vabbè ovviamente il suo caricabatterie dove che si può caricare è tutto e stava dentro questa box che è difficilissima da aprire perché devi difficilissima da aprire infatti la terrò così d'ora in poi non la non la chiuderò perché altrimenti ciao perfetto poi sono passata da capello point perché avevo finito il night prep di passione e quindi ho preso il night prep di mesauda milano allora il night prep è molto utile perché è il deidratante io lo utilizzo prima di mettere il primer senza metacrilato quindi il binder sempre di mesauda quindi io preferisco utilizzare il night prep molte non lo usano io lo uso sempre perché migliora l'aderenza e in più ho preso un colore ho preso un one phase ovviamente io non lo uso come semi permanente lo uso come gel color il 142 di mesauda che si chiama wine dance allora il colore ovviamente lo vedete anche dal tappo ma ve lo faccio vedere è un viola stupendo scurissimo favoloso allora questo è un dupe del famosissimo unique di passione unghie che è su possione sempre esaurito sempre sold out unique è sempre 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 sold out quindi ho preso quello lì tra due settimane quando farò il refill alle mani voglio provare quello lì perché per adesso terrò il fucsia fluo il rosa fluo mi piace il fluo anche se la stagione ancora non è delle migliori ma non fa niente io quando sta per arrivare la bella stagione il fluo mi domina sempre colori chiari sempre colori fluo perché mi piacciono tanto avere così le mani fluo mi piace mi fa stare allegra anche se il tempo fa schifo bene un'altra cosa mia sorella oggi mi ha chiamato mi ha mandato ha fatto una videochiamata dal negozio desigual dell'aeroporto di palermo perché il negozio sta chiudendo e ha messo tutto in sconto al 50% quindi mi hanno regalato una borsa bellissima di desigual non vedo l'ora che loro dovrebbero venire su a breve quindi penso che me la porteranno così ve la farò vedere bene ora vi saluto vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video buon fine settimana ciao ciao